Un'altra politica per un'altra Europa significa prima di tutto invertire le disastrose politiche di austerità. È la finanza privata che ha causato la crisi, non la finanza pubblica, ma dal 2010 le istituzioni europee sono state bravissime, fin troppo brave a imporre fiscal compact, six pack, two pack, austerità e sacrifici su stati e cittadini che hanno subito la crisi, mentre la finanza privata che l'ha provocata è lasciata libera di agire. Invertire la rotta significa austerità per questo casino finanziario, imporre delle regole per chiudere il casino finanziario e interrompere queste sciagurate politiche di austerità che stanno affossando la stessa idea di Unione Europea.